Assessore, un grande spettacolo per salutare l'arrivo del 2014. Esatto. L'amministrazione Capacci ha voluto regalare l'organizzazione di un capodanno in Calatacuneo, zona portuale di Oneglia, il 31, quindi a partire dalle ore 22 e 30, con una serie di interventi. Primo un intervento musicale a cura della band dei Solid Rocks, che è una band imperiese molto nota. Successivamente interverrà il comico genovese rapper Gabi Gaba e infine ci sarà la parte più musicale per eccellenza dopo la mezzanotte con l'intervento del DJ Ivan. E quindi grande festa a tutti in piazza. Speriamo che ci sia una grande partecipazione e soprattutto speriamo in una buona condizione meteorologica. Veniamo allora alla musica, parliamo della vostra band, intanto da quanti elementi è composta e qual è la vostra musica? Allora la nostra band è composta da cinque elementi, noi ci chiamiamo Solid Rocks e facciamo il tributo ai Daya Straits, leggendaria band degli anni 80. Quindi una musica con grande energia per salutare l'anno nuovo? Una musica con energia, sì, per salutare l'anno nuovo. Riproporremo i brani chiaramente più ballabili, più allegri, quelli più coinvolgenti, sperando anche di scaldarci noi e di scaldare anche la gente che ci ascolterà perché con tutto l'ottimismo che possiamo metterci sicuramente un po' di freddo lo farà. Quindi cercheremo di riproporre i pezzi un po' più rock, un po' più energici. E siete di Imperia? Siamo di Imperia, sì, tutti e cinque. Qual è il brano principale che proporrete? Saltano Swing. Un classico. Un classico. Assessore, quindi dopo la musica, come dicevamo, ci sarà il cabaret, quindi anche un momento per ridere insieme. Assolutamente, abbiamo chiamato Gabi Gabra, che è già stato Imperia lo scorso novembre in occasione del Memorial Maragliotti. L'abbiamo trovato molto divertente, molto accattivante e soprattutto trascinatore per una fascia di età un pochino più giovane. Quindi abbiamo cercato di creare un capodanno con diversi momenti per diverse fasce d'età per i nostri concittadini. Allora, Gabri, sei pronto per il capodanno di Imperia? Prontissimo. Voi non siete pronti o no? Noi siamo pronti. Speriamo che ci sia un bel tempo. E tu comunque dovrai in ogni caso riscaldare la platea. È vero, è vero. Dato che facciamo questo bel capodanno assieme inizia nel 2014, le facce d'acqua non pensano che pensino a altri. Le dico direi, poi dite io, così ci siamo levati su. Assolutamente. Senti, io ti ho già visto Imperia, lo so che sei bravo. Ti ho visto al Teatro Cavour a novembre. E secondo me sei un grande trascinatore, soprattutto per i giovani. Cosa dici ai giovani imperiesi? Per farli venire? Assolutamente, sì. Di venire, dato che poi hai un'altra ora a casa, uva, finito in maniera, lo zampone è finito. Alcuni ti propongono, altri, di giocare alla tombola, che è un gioco noioso. Mettetevi il keyway, mettetevi il piumino e venite a vedermi da vicino. Dicevo, dato che c'è anche lei in piazza, ti vogliono di più da questa vita. Ci siamo praticamente tutti. Se vengono anche loro, ci siamo tutti per davvero. Ci siamo tutti per davvero. Ci sarà anche il sindaco che sarà con me. Alla grande, allora niente. Primo giorno col primo cittadino a Imperia. Tutto a prissimo. Sì, tieni presente che noi siamo un'amministrazione nuova un po' sui generis. Quindi ci vedrai, non siamo proprio, come posso dire, dei politici navegati. Quindi magari ti parremo delle persone normali. Ci vediamo martedì 31 in Calata Cuneo a Imperia Aoneglia. Ti aspettiamo. Sì, tieni presente che noi siamo un'amministrazione nuova 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 un'amministrazione nuova. Grazie a tutti